Penso sia una cosa importante e che ci dia ancora più carica questa cosa appunto di voler scrivere la storia, di rimanere nella storia. Una partita da giocare a viso aperto, siamo due squadre a cui piace giocare tanto a pallone, quindi mi aspetto una partita equilibrata e aperta. Non importa la categoria, non importa se è la quinta, può essere la prima, la quinta o qualsiasi categoria, l'emozione di giocare una finale è sempre alta, sempre grande. Come tutte le gare secche ci sarà da darci dentro, cercare di portare l'episodio dalla nostra parte perché sarà sicuramente una partita equilibratissima. Il coronamento di un grande lavoro che hanno fatto sarà di uno godere, con Saboli però che le finali vanno in te. Grazie a tutti. 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 È molto bene, è un'emozione molto forte anche perché la partita è stata molto combattuta, quindi siamo una storia. È stata una partita perfetta, se ti la devo dire, me la sognavo così, così è andata, però davanti abbiamo veramente una scuola forte. Grazie a tutti.